E' stato identificato e arrestato dai carabinieri il presunto autore dell'aguato compiuto a Massafra, seguito del quale una ventisenne è rimasta ferita dai vetri andati in frantumi dell'auto sulla quale viaggiava, colpita da uno dei proiettili. Si tratta di Antonio Bellanova, 31enne, pregiudicato attualmente e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'uomo, per motivi da ricondurre verosimilmente a progressi contrasti personali, ieri ha sparato in piazza Vittorio Emanuele alcuni colpi d'arma da fuoco contro un altro, pregiudicato 37enne, anche egli sorvegliato speciale. L'obiettivo dell'aguato, che era in sella una bicicletta, ha evitato i colpi. Uno dei proiettili invece è colpito accidentalmente l'1-8, posteriore di un'autovettura lancia delta, su cui viaggiava una famiglia. Le schegge di vetro hanno causato lievi lesioni a una ragazza. I carabinieri hanno recuperato alcuni bossoli di piccolo calibro, nonché due ogive. L'ascolto di testimoni e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area hanno permesso di ricostruire l'intera dinamica, consentendo l'identificazione e la successiva cattura del presunto autore della sparatoria. Contestualmente è stato denunciato per favoreggiamento personale il 37enne obiettivo dell'aguato, che non ha riferito alcuna informazione utile ai carabinieri.